Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Abella. Mercedes-Benz, questa estate, tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Tele Nostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dug Auto. Inoltre nella camera da letto del giovane sono stati rinvenuti altri barattoli contenenti marijuana insieme a un bilancino digitale e un proiettile inesploso calibro 9. In un'altra camera i carabinieri recuperavano altro munizionamento calibro 6,35. Proseguendo l'ispezione i militari scoprivano nel sottotetto dell'abitazione un locale adibito a Serra che l'uomo aveva accuratamente predisposto, attrezzandolo di impianto elettrico per il montaggio di lampade ad alta potenza con il chiaro intento di incentivare sia la coltura che l'essiccazione della canapa. Centinaia le dosi ricavabili dalle colture.